E così la Juventus che sognava il primo posto e risaliva la classifica fino appunto al primo posto si ritrova a discendere fino all'incubo del terzo posto che poi tanto incubo non è, va detto perché considerate le premesse di inizio stagione che vanno sempre ricordate perché questa era una squadra che comunque all'inizio della stagione è considerato poi quello che è successo con Pogba e Fagioli non poteva essere sicuramente immaginata fino a un mese fa dove poi si è trovata però questo è un discorso che va fatto in maniera più ampia, pacata e in questo momento l'umore dei tifosi bianconeri non è assolutamente pacato perché si scatena in certe situazioni la caccia al colpevole o ai colpevoli che peraltro succede con tutte le tifoserie di tutte le squadre ma con la Juventus in particolare di più anche perché c'è questa abitudine alla vittoria che ormai ha compiuto però mille giorni che per gli tifosi giuventini significano tante cose significano non essersi goduti probabilmente i nove scudetti consecutivi conquistati fino a poco tempo fa significa anche non dare valore al tempo dell'attesa e della ricostruzione perché qui di ricostruzione si tratta. Restiamo però innanzitutto sulla partita contro il Verona due punti nelle ultime quattro giornate peraltro due punti conquistati con l'Empoli e col Verona cioè due squadre che lottano per la salvezza non esattamente la parte nobile del campionato ecco, come ne esce la Juventus da questa situazione? con la serenità di pensare e valutare come qualcosa di comunque positivo il campionato disputato fino ad ora uscita dal sogno come ho detto prima la Juventus non deve ritrovarsi nell'incubo deve ritrovarsi semplicemente nella realtà questa è la situazione naturalmente però tra i tifosi imperversa quella Allegri Out perché c'è bisogno di cercare un colpevole e di immaginare un nemico interno che porta che grazie alla sua eliminazione si risolvono poi tutti i problemi tutti sanno sia nel calcio sia nelle aziende che poi non è così anche nelle famiglie perfino non è non è così in particolare però perché ho detto il nemico interno perché è giusto anche dare una lettura che va oltre la situazione delle singole partite e tra un po' vi darò qual è la mia lettura sulla situazione all'interno della società Juventus intanto che cosa è successo in queste quattro partite? allora in queste quattro partite c'è un momento che è lo dice la storia il momento in cui cambia il destino della Juventus cioè dell'espulsione di Milik parliamoci chiaro in quel momento si screpola si incrina una certezza che la Juventus stava andando con l'entusiasmo con la grinta con la determinazione con l'allegria non riferita all'allenatore verso un traguardo assolutamente impensabile in quel momento c'è uno shock un cortocircuito per quelli della mia generazione c'è il tilt ecco in quel momento esatto Milik sbaglia tre stop al terzo stop sbagliato va in scivolata giusta l'espulsione giusto il rosso poi arriva il pareggio malgrado il vantaggio poi c'è la sconfitta netta e meritata contro l'Inter c'è la sconfitta secondo me immeritata perché la Juventus aveva fatto un buon primo tempo poi lo stesso Milik aveva sbagliato due gol che di solito un buon attaccante realizza poi c'è questo pareggio con il Verona con alla fine due errori di chiesa per esempio un tiro tentato di sinistro oltre la traversa e un tiro ravvicinato con bella parata di Montipò il portiere del Verona non è tanto il caso di parlare dei singoli perché qui la situazione va generalizzata è una situazione della quale lo stesso Allegri è consapevole altrimenti non avrebbe cambiato sistema di gioco sia nella partita con l'Udinese sia soprattutto in maniera evidente contro il Verona un difensore in meno, un attaccante in più che poi è l'unico modo per far coesistere eventualmente Chiesa e Ildiz poi magari ci sarà da discutere se è meglio Chiesa a destra e Ildiz a sinistra o viceversa una cosa è sicura il Turco ha una viva città che la Juventus deve assolutamente preservare e coccolare anche per le prossime partite Chiesa invece ha bisogno di ritrovare di far pace con se stesso di ritrovare autostima un po' di mira anche che non guasta perché poi la mira è tutto prendete il gol che ha gasato il Verona è una prodezza balistica di Folon Ruscio ed è chiaro che con un gol così uno può anche tirar fuori un po' il destino un po' la sfortuna ed è normale che la Juventus qualche Juventino possa anche dirlo come però è altrettanto normale ricordare che se la Juventus si era ritrovata a contendere il primo posto con l'Inter perché di fatto questo c'è stato fino a un mese fa era anche grazie ad alcune partite nelle quali il destino ha dato una carezza alla Juventus con alcune partite risolte all'ultimo respiro, all'ultimo secondo all'ultima azione offensiva il destino si compensa quello è poco ma sicuro sugli errori arbitrali invece i tifosi si dividono e la storia che si compensano non l'accetta più nessuno ma il destino sì, fortuna e sfortuna si compensano nell'arco di una stagione la Juventus proprio per questo dico che deve tenersi stretti i punti finora conquistati perché rappresentano già una proiezione positiva di quanto veniva immaginato durante l'estate dopo le avversità e il mercato al risparmio che aveva fatto la stessa Juventus il mercato al risparmio perché? perché è una società che naturalmente non può più spendere soldi in questo però mi sembra che stia non tanto allegri ma in generale una parte della società stia dimenticando quanto i giovani valgono i giovani da quelli dati in prestito a quelli già venduti tipo De Winter o Dragusin tanto per dire a quelli che verranno inevitabilmente venduti nella prossima estate danno comunque un respiro al patrimonio della Juventus che non è quantificato con precisione nel bilancio in questo senso mi sembra che c'è chi all'interno della Juventus le cose le vuol vedere in un modo e chi le vuol vedere in un altro modo perché faccio questo discorso? perché le voci che arrivano a tutti le trovate anche su YouTube sono di una parte di alcuni esponenti diciamo della società che avrebbero intenzione di proseguire in maniera armoniosa questo progetto giovani con Allegri almeno per un altro anno c'è una parte della società che invece non vede l'ora di che Allegri faccia un passo indietro oppure trovi un'altra squadra oppure trovi il modo di litigare per non continuare ecco in queste situazioni per esperienza vi dico che la Juventus è destinata ad avere un futuro non rosio non positivo la società devono essere compatte e senza andare troppo nei dettagli della Juventus dico che la storia insegna che il peggior Milan è stato quello con il dualismo tra Barbara e Berlusconi e Galliani la peggiore Inter è stata quella in cui Moratti aveva un po' troppi consiglieri all'inizio della sua avventura presidenziale e anche se vogliamo la stessa Inter l'anno scorso quando c'è stato un momento di attrito di conflitto tra Marotta e Inzaghi è stato il momento in cui l'Inter ha collezionato una serie di risultati ben poco positivi i dualismi non fanno bene a nessuna società e questi sono dettagli il dettaglio della partita con il Verona per la Juventus è che comunque questa squadra aveva grinta determinazione entusiasmo giovanile cura dei dettagli e adesso non c'era più l'ha persi perché? per lo shock dell'espulsione di Milic contro l'Empoli perché era normale perderli? tutte le risposte sono accettabili vale però la sintesi di Rabiot nelle interviste post partita la squadra è diventata moscia e se una squadra come la Juventus che non ha livelli tecnici elevatissimi diventa moscia ecco che già conservare il secondo posto sarebbe un successo il secondo posto il secondo posto è un po' di più Grazie.